Marina sta fumando Patrizia sta guardando Ciao mettete più verso dentro del vetro ora 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 ecco bellezza in bagno due tasse di marmo ecco dove stiamo andando? un certo nome di Patrizia dietro ci sono due calzate mora possiamo ammirare la stanchezza negli occhi di queste persone? ma dai io non sono stanco sono solo un tipo posato un tipo posato sul pilone salutami le stelle della tua città insieme a qualcosa dell'Enel muore guardami muore vuoto formaio vuoto prosciutto vuoto prosciutto buongiorno 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 Appena appena. Appena appena. Appena appena. Appena appena. Appena appena. Appena appena. a meno di capire e non faccia volare mai, ormai, 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 come potete giudicare, come potete condannare, chi credete che lui sia, e i capelli che portiamo, facciamo così perché crediamo, che nessun male si possa fare, se mi fermaste un forno, vado di parlare, mi accorgereste certo che non avevamo lavoro, Grazie a tutti. 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 Io sono Renato, ti amo, Patrizia, tuo Paolo. Grazie a tutti. Quell'aria vissuta, davvero, sei fuoco che alimenta la mia passione, tu o Mario, lo giuro su Dio, tu o Mario. Va bene, va bene, va bene, va bene, ascolta... E se l'è presa con un cucciolo. Perché? Perché? Ma Mauro, Marina, Mariana, Franca, Lorisa e Maura, vi diciamo avete assolutamente ragione. Quando uno non se la può prendere con le altre persone, se la piglia con gli animali. e rimane comunque è un grandissimo testa. Bravo! Auguri, grazie a tutti. Sempre un amici, sono Mario e a me mi piace tanto Danilo, anche con i capelli. Semplicemente Marina ti amo, io voglio vivere sempre con te, Mauro. Rotta la fiamma, perché non glielo dici di persona? No, è so buono! Bastardo! Che bastardo! Che bel disegno da dire! Che bastardo! 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 Grazie.